Oltre mezzo milione di euro di droga tra hashish e cocaina, una pistola a calibro 9 con 50 proiettili camiciati e tutto il necessario per tagliare e confezionare gli stupefacenti in dosi da immettere sul mercato toscano. Questi sono i numeri del materiale sequestrato dagli uomini della squadra antidroga della questura di Firenze a Signa durante un'operazione scattata al termine di una lunga attività investigativa. Alla fine sono stati arrestati due magrebbini di 29 anni, un uomo e una donna. Quest'ultima si trova ai domiciliari perché ha con sé la figlia di tre anni. Siamo partiti da notizie che avevamo, soprattutto anche segnalazioni dei cittadini della zona, che hanno notato uno strano andirivieni, abbiamo iniziato una serie di appostamenti lunghi e faticosi finché sabato, se non sbaglio, abbiamo visto rientrare con degli scatoloni e come potete vedere dal quantitativo di hashish chiaramente sono scatoloni, insomma quindi abbiamo fatto l'intervento nell'abitazione. Secondo gli investigatori che stanno ancora indagando sotto la guida del funzionario Alfonso Di Martino, i due avevano messo in piedi una fiorente attività di commercio all'ingrosso con un giro d'affari mensile che poteva arrivare anche a un milione di euro. Noi stiamo adesso analizzando tutti i loro background, i loro contatti e chiaramente non è l'inizio di un'attività di spaccio questa qui, insomma parliamo di persone già stabilmente ledite a questa attività. Gli uomini dell'antidroga durante l'operazione hanno perquisito l'appartamento trovando anche cellulari e 13 mila euro in contante.